Come ogni anno centinaia di motociclisti si sono ritrovati ai piedi del Monte Bianco per onorare la memoria di Pierlucio Tinazzi, dipendente del traforo, morto il 24 marzo del 99 con altre 38 persone. Con coraggio il motar soccorse un'automobilista francese accompagnandolo in un rifugio pressurizzato, ma non tornò mai indietro. Da allora i motociclisti di tutta Europa si ritrovano in Valle d'Aosta per ricordare il motociclista eroe. La manifestazione si è svolta a Courmayeur.